Musica Ci troviamo al Museo Naturalistico del Lente Parco Sasso Simone Simoncello ospita una collezione di animali e minerali che provengono dal Parco Naturale da circa un anno è gestito da Chiocciola la Casa del Nomade l'associazione che rappresento, che ha sede a Pennabilli e che realizza principalmente progetti di educazione al paesaggio, educazione alla cittadinanza che coinvolge soprattutto bambini ma anche adulti il museo propone ad adulti e bambini diverse attività che riguardano la biodiversità, la sostenibilità ma anche lo sviluppo della creatività Musica Il progetto che stiamo sviluppando in questo momento all'interno del museo è un progetto che si chiama In Presento Sono Paesaggio ed è promosso dal Museo Naturalistico di Pennabilli e dalla scuola un bel progetto che al museo e anche ai ragazzi è servito molto per diventare veramente centro sia per le famiglie che per i ragazzi, anche un luogo di incontro e di crescita In questo momento sto lavorando per, come se direttario, per la mostra che si terrà a fine progetto Mi presento Sono Paesaggio e in particolare sto cercando email per contattare studi fotografici che ci permettono di stampare volantini e foto e tutto quello che c'è adesso di fare Musica Io sto facendo un progetto che si chiama Mi presento Sono Paesaggio insieme alla scuola e al museo Io particolarmente sto facendo, cioè in pratica ieri ho scansionato delle foto che oggi utilizzando l'applicazione Photoshop sto mettendo a posto Noi stiamo facendo questa ricerca con queste foto perché alla fine faremo una mostra In questo progetto ho imparato che ci sono molti luoghi da visitare in questo paesino e ho scoperto un nuovo tipo di divertimento che non è quello di stare, per esempio, giocare in casa ma anche uscire e stare fuori Musica 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 Musica